Stamattina, aprendo l'agenda, ho visto che domenica prossima avrei dovuto fare la cresima, mi pare in quel di Novoli, dal caro Don Stefano, e mi pare che è un sogno che viene rimandato, cari ragazzi, ma vi sono ugualmente vicino, vi abbraccio tutti e vi dico non vi scoraggiate. E' una prova importante nella vostra vita, quando una tappa preparata, attesa, da tanti anni, da quando andate a catechismo, da quando avete fatto la prima comunione, ma si vede che il Signore ha detto questi ragazzi hanno bisogno di maturare nella fede, andiamo a messa tutte le domeniche? Eh? 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 Oppure, mo' con la scusa del virus non si fa più, non si prega più, eh? Prepariamoci bene, che poi vi chiedono qualche cosa quando faremo la cresima. Intanto, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, in questo momento altro che Consolatore, Dolce ospite dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo i nostri cuori, lava ciò che è sporco, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido e scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli e a tutti i cresimanti che tolo in sé coni, in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, Amen, Alleluia, ci vedremo, confidate nel Signore, la cresima si farà, decideremo quando, auguri.